Parte domani la nuova stagione della Pescara con il ritiro di Palena intorno alle 17.30 appunto a Palena il primo allenamento della squadra che è stata affidata quest'anno all'allenatore Alberto Colombo ex Monopoli. Tra l'altro la prima amichevole si giocherà domenica 24 luglio con inizio alle 17.30 proprio allo stadio degli Angeli di Palena contro la formazione turca della Dana Demir Spor allenata questa squadra dall'italiano Montella nel cui fila milita naturalmente Mario Balotelli ma c'è anche l'ex Birkir Bjarnason. Per quanto riguarda il mercato nessuna risposta a parte di Salvatore Pezzella che era uno degli obiettivi di mercato anche oggi insomma telefono muto per così dire quindi potrebbe anche cambiare l'obiettivo per il ruolo di metodista metronomo del reparto nevralgico tutto fermo anche su Radrezza e Maiorino. Non c'è ancora il Placet da parte della Lazio per il prestito del terzino destro Mussolini classe 2003. Le altre notizie per esempio l'ex Jacopo Cernigoi è stato ufficializzato nel pomeriggio di oggi dalla Feralpi Salò di Stefano Vecchi contratto di tre anni dunque scadenza 30 giugno 2025. Cernigoi classe 95 ha segnato lo scorso anno tra Serenio e Pescara 11 gol Coppa Italia compresa nel Pescara 4 1 in campionato e 3 nei playoff. Facciamo il riepilogo delle operazioni allora intanto in entrata operazioni già ufficializzate Sacani in prestito secco dal Sassuolo terzino destro classe 2001 Milani classe 2001 terzino sinistro a titolo definitivo dalla Pontedera De Marino dalla Juventus classe 2000 terzino sinistro in prestito con diritto di riscatto. Sommariva e Lombardi sono arrivati a titolo definitivo dalla Monza il primo è un portiere classe 97 il secondo è un centrocampista classe 2002 poi l'Escano a titolo definitivo dall'Entella da ufficializzare l'attaccante Luigi Cuppone classe 97 prestito con obbligo di riscatto dal Cittadella al verificarsi alcune condizioni 15 gol nel prossimo campionato di Serie C con la maglia del Pescara oppure la promozione in B del Delfino con il 60% delle presenze di questo attaccante e poi anche il classe 2002 Gianluca Germinario che è una scommessa di Delicarri ruolo mezzala arriva dal Chisola società piemontese neopromossa nel campionato di Serie D potrà essere diciamo ufficializzato a partire dal primo agosto però già sostenuto svolto le visite mediche e domani sarà la volta anche di Giabuà dall'Atalanta in prestito secco e del centrocampista Luca Mora classe 88 tra l'altro è svincolato le operazioni invece in uscita Sorrentino a titolo definitivo al Monza Elisalde a titolo definitivo all'Indipendente Clevenza a titolo definitivo all'Entella De Marchi a titolo definitivo al Padoan Zita a titolo definitivo al Bershot Club Belga e Di Grazia a titolo definitivo al Potenza Grazie a tutti